Tragedia di Ferragosto, Ortona, dove due fratellini di 11 e 14 anni sono morti sotto la furia del mare. Sarebbe dovuta essere una giornata di riposo e spensieratezza. Approfittando delle ferie, la famiglia di Montesilvano, ma di origini cinesi, si era recata sulla spiaggia di Ortona per trascorrere la giornata di festa insieme ai propri cari. Nessuno avrebbe potuto prevedere la tragedia. Secondo le prime ricostruzioni, due bambini stavano facendo il bagno quando una grande onda li ha sbattuti contro la scogliera. Il padre ha assistito alla scena dalla battigia, si è immediatamente gettato in acqua per salvarli, ma a causa della violenza del mare o forse di un malore non è riuscito a raggiungerli ed è stato a sua volta tratto in salvo dai bannini. La guardia costiera si è subito attivata per le ricerche e poche ore dopo i sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco hanno individuato i corpi dei fratellini incastrati nella scogliera, a pochi metri di distanza l'uno dall'altro. Le salme sono state trasportate all'ospedale di Chieti dove il PM di turno ha disposto l'autopsia.